Ad Agrigento non si è potuto fare a meno di chiamare in causa il concittadino ministro Angelino Alfano sulla ingarbugliata vicenda che riguarda l'Acragas. I tifosi avrebbero voluto aggrapparsi proprio ad Alfano, ritenendola l'unica persona in grado di salvare il salvabile per assicurare alla città l'unico svago che fino a poco tempo fa veniva dal calcio, anche perché avere una squadra tra i professionisti non è di tutti. Ma ieri da Angelino Alfano è arrivata la doccia fredda. Sollecitato dal nostro direttore Arturo Cantella, Alfano ha detto con chiarezza assoluta che lui per l'Acragas ha già dato tanto. Io ho fatto per l'Acragas credo quello che ha consentito di portare l'Acragas al migliore livello di campionato degli ultimi trent'anni. Io l'ultima volta in C1 me la ricordavo quando ero al liceo, ci è tornata grazie al fatto che io ho trovato le sponsorizzazioni. Se dopo che io faccio tutto quello che faccio poi per quattro problemi burocratici non si riescono a risolvere le questioni, io non è che ho la bacchetta magica da Roma per risolvere tutti i problemi. Ho trovato lo sponsor, ho fatto tutto quello che ho fatto. Non ho neanche accampato grandi meriti perché sono sempre uno sobrio che non si piglia i meriti, poi non è che io da Roma abbia la bacchetta magica per risolvere pure i problemi di dettaglio. Facciamo pure i pirandelliani, nel senso che abbiamo il problema della luce avendo come sponsor l'Enel, non si può caricare poi tutta la soluzione dei problemi di Roma e si diano pure un pochettino da fare pure qui. Arranciatevi è la traduzione che gli agrigentini tifosi hanno dato alla risposta del Ministro. Secondo gli stessi tifosi comunque Ancelino Alfano da agrigentino e da tifoso avrebbe potuto e avrebbe dovuto sicuramente fare ancora il passo più importante per fare uscire l'Akragas da una situazione che rasenta la vergogna. Invece siamo qui a raccontare di un legame spezzato tra il Ministro e la squadra di calcio Biancoazzurra, un legame che sembrava ben saldo, ma non è così. Sembra il caso di ricordare che l'Akragas non è della società un tempo guidata da Marcello Giavarini, ma è della città tutta dove Alfano è nato. Intanto, passando al calcio giocato, i ragazzi allenati da Raffaele di Napoli sabato 4 novembre affronteranno il Trapani. Sarà un derby senza Salvemini, Sepe e Vicente. E non è poco.